...ve dovete dire a chi interessa tutte quelle lavorazioni avanti? No, per ora... ...due due bottigioni al giorno, i 9 ero sotto... ...dola mattina sotto il gozzo. ...dolphe ancora qua? ...dola, fai qua? ...dola, fai qua, passando, ciao. ...dola, fai qua... ...dola, fai qua... però è visto che c'è questo, come si da voi rammettiamo. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.